aveva ragione mio nonno, come le Citroen, non ce n'è, mio nonno diceva le Citroen alcuni stavano camminando un cassetto tipo cosa, Renault 5 GT Turbo tipo Lamborghini, anzi una Ducati una Bugatti, una Bugatti, quindi l'assetto proprio mi riferirei una Ferrari, un modello di una GTP, bello, amica, in queste strade immaginate che bello, farsi una passeggiata con una Ferrari in queste strade bello, piano piano, po po po, cabrio alla Magnum Pi, ah bellissimo, così anche se non è succeduta pure, pure, pure non fa male a tutti, una psicopatica Ludarnica, Ludarnica e dici mamma siamo andati a fronte cosa è Oclovi? dopo la pioggia in Bulgaria escono funghi e escono anche Oclovi questo animale dove cammina e si porta la casa come si chiama? tu attendolo chiedo minchioni minchioni coglioni come si chiama? andando poi in paese io ho detto mare faimi fuori tutto il paese qua qua tutti i paesi ma noi abbiamo la saxopininfarina ma non mi riprendere ma che cavolo psicopatia io non scrivo non carico video cose su facebook non sono per amici per i nemici no io li carico per tutti amici e nemici li carico solo al mondo worldwide che cos'è questo? ha fatto riozziolino che ti mangi l'uovo e il vino io ti ho fatto un latte sopraffino avevo uova ricco ci mettono mani a giugno ci mettono mani a giugno nel c'è un moto ciclista nella campagna maggio giugno io ci ho dovuto mettere mani prima perché ci ho dovuto perché 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 stavamo là in mezzo alle piante infestanti serpenti i ragazzi si vedono io sto camminando a 40 40 noti inclinazione inclinazione assetto assetto tendente con risalita inclinazione del veicolo ho dovuto aprire la macchina nostra c'è una macchina di uos cazzo si sono preparati i ballettoni una macchina in 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 anzi stai zitta scendi e spingi la macchina io lo so perché io mi piace venire c'è quando vengo qua sono odori questi odori di questi posti mi ricordano a parte i nonni ma mi ricordano da quando ero piccolo mi perdevo mi perdevo in queste campagne noi perdiamo nezzo a serie nevo a luna scendiamo che biciclette con i motorini con nelle piazze nel mezzo ai rovetti in mezzo alle quanti colpi di sole che restavamo a piedi era tardi non potevamo ci eravamo andato a fare qualche base qualche posto così qualche collina sotto qualche albero con i giornaletti di pilo neanche prendere da mio nonno i giornaletti di pilo perché mio nonno il giornalario non il giornalario mio nonno e mio nonno li nascondevano sfera luminose dove siete stai a me sfere luminose l'acqua questo è importante questo è importante Grazie a tutti. Signor Patch, portami il tavolino del tempo dei tempi. La salsiccia non è delle migliori. La stessa è fatta così, senza pensare che qualche cosa dobbiamo mettere. Io non l'ho capta! Facciamo così. Tu me la sacchi e io la trasporto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi fa piacere che mia figlia si deve fare la doccia e deve uscire. Più contento di me non c'è nessuno. Ciao, ciao, ci vediamo dopo. Devo fare la doccia? Perfetto, ok. Ok. Genitori babbionazzi che non siete altri, siete dei babbionici. Escono, entrano, entrano, escono. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.